La bestia sta arrivando e io sarò pronto, non importa quale prezzo. Sto seguendo i tizi che hanno preso Wolf, ma ci vorrà un po'. Ok. Intanto col penso dovresti mettere in salvo ciò che resta del laboratorio di Wolf. Dobbiamo arrivarci prima della milizia. Ecco fatto. Dai, venite a prendermi, scemi. Kaboom! Sì, ti piacerebbe. Ecco te. Ecco qua. Ah, ma ancora uno ce n'è? Dai. Vai giù, bravo. Questo qua. Rompiamogli il giocattolino. Ma quanta gente. Allora, aspetta un attimo. Oh, un nuovo potere. Impulso cinetico. Giusto, giusto, giusto. Facciamo elettrocuzione. Ecco a te. Dai, venite tutti assieme. Madonna mia. Questa è buona. Questa è veramente buona. Fa un sacco di danno e li blocca. Perfetta. Mi piace. Sai che ci manca poco per se lì è già di livello? Dov'è la tizia che ha bisogno di aiuto? Ecco fatto. Rapina interrotta. Là c'è la polizia che però ovviamente dobbiamo evitare. Nel senso, non dobbiamo attaccarla. Come ho detto già nel primo gioco. Essere cattivi. Ma dai. Ci vuole un attimo. Essere buoni. Ci vuole molto di più. Dovrebbe essere morti. No, sono ancora vivi. Ora non più. Credo. Addio. Aia che male. Tutto a posto signori. Nulla di cui preoccuparsi. Uncharted love. No, Dio mio. Che poi queste sono tutte quante. Citazione. Little big unit. Poi. Assassin need. No need for speed. Epic haiki. Sly. Ma statevene buoni. Ah, non basta. Non ci arriva. Ma stai buono. Queste erano le cose bellissime. Che mettevano sempre in questi giochi. Sempre piccole reference. Sempre piccole cavolate. Ma che piacevano alla gente. Alla gente piacevano queste cose. Altra rapina da sventare. Ciao. Fatto. Me lo giuro. Mio cugino. Ciao di nuovo. Sono sempre io. Scusami. Non volevo ferirti. Perdonami. Mi fa pure la foto. Ed eccoci alla prima missione secondaria. Che come per il primo gioco. Non vi farò vedere tutte le missioni secondarie. Ma. Giusto giusto. Solo questa qui e magari poche altre. Che il gioco vuole che io vi faccia vedere. sta per esplodere. No. State voi per esplodere. Altra persona bisognosa d'aiuto. Eccomi che arrivo. Sei salvo. Vai tranquillo. Eccoci alla missione secondaria. Ecco qua. Ho visto uno dei piccioni viaggiatori di Wolf in cima alla torre dell'Ororosio. Piccioni viaggiatori. Dio mio. Ma perché? Beh quando Wolf si era infiltrato nei primogeniti usava piccioni viaggiatori per recapitare messaggi al suo contatto NSA. Che ero io? Quindi per te non è una specie di fidanzatore stagionato o qualcosa del genere? Il termine corretto a cui ti riferisci è figura paterna. Va bene così. Non ti giudico. Non ti giudico. E beh. Allora dammi un secondo. Questa qui dobbiamo se non ricordo male usare quello normali per un semplice motivo. Perché adesso dobbiamo prendere il piccione. E siccome il piccione è piccolo usare un colpo molto piccolo ci renderebbe solo la vita molto più difficile a noi. Ecco qua. Vai call. No qui. Perché così abbiamo già un boost. E non dobbiamo scalare per forza di cose tutto a mano. Non c'è bisogno di ucciderlo. Hai qualche potere stordente? Sì. Ne ho uno. Se solo... Se solo lo vedessi... Lo cacchio è? Eccoti. Dov'è? Aspetta l'ho perso di vista. E' piccolo. Eccolo lì. Preso. Preso. Ehi tu. Dico ti sei arrampicato fin lassù. Potresti anche scendere con un po' di stile. Beh oddio. L'ho fatto eh. Bene. Dovrebbe avere una scheda di memoria fissata al collare. Collega l'alto telefono. Ma poverino. Ti ho già spedito la chiave di codifica. Cioè allora io capisco che bisogna stordirli e noi gli facciamo nulla. Però in una caduta del genere comunque è morto. È morto sicuro quel piccione. Quindi. Senza che stiamo lì a dire l'abbiamo colpito con un colpo stordente. Ho ragione di credere che solo tu sia in grado di decodificare questi messaggi. E che essi contengano prove utili alla tua indagine sui primogeniti. Il mondo deve sapere ciò che è successo. Bisogna mettersi subito all'opera per riparare i danni causati dalla raggiosfera. Danni per i quali sono innegabilmente ricorsabili. Ebbè. Oh ma la telecamera. Scusami gioco. Scusatemi. Mi sono perso. Premi cerchio per lasciarti cadere quando ti arrampichi. Trova un secondo frammento. Trova un frammento. Trova un terzo frammento per incrementare la tua riserva di energia. Allora uno è qua. E altri sono qua in giro. Non so neanche quando la telecamera si sia spenta. E vi chiedo scusa. Purtroppo abbiamo sempre un timer per la telecamera. Il mio corpo assorbe la loro energia. Un altro paio di frammenti dell'esplosione potrà accumulare più potenza. Quei cosi potrebbero essere ovunque. La collezione di Wolf è saltata in aria col laboratorio. D'accordo li troverò. Ah volevo chiederti. In quella registrazione Wolf ha detto che avevi un contatto a Empire City. Lo conoscevi anche tu. Si chiamava John White. Non ci credo. La NSA sapeva qualcosa sui conduit. Analizzarono ogni singolo agente. Voglio sentire prima la discussione prima di andare avanti. Era un perfetto per infiltrarci tra i primogeniti. Per cui lui fu assegnato a Empire City e a metto coniumare. Collaboravamo per mantenere le nostre coperture. Che ti ha detto Johnson di me? Dopo l'esplosione i suoi rapporti sono diventati confusi. Mi sembrava tutto così assurdo. Era un po' impazzito eh. Visto te e la bestia. Sì. Il mondo ha decisamente preso una strana piazza. Eh esatto. John non era proprio al posto quando abbiamo conosciuto. Però sapeva fare il suo lavoro alla fine. Ottimo lavoro. Sembri cavartela bene con quegli affari. Bene. Ma per favore. Oggetti smarriti. Altro? Qualcuno mi chiama? Ehi. Ricordi la prima volta che siamo venuti qui e ho avuto a che fare con quei tizi? Beh. Come dire. Non proprio innocenti. Certo. Un po' di pennicilline e si è risolto tutto. Beh. Ora tocca a te. Alcuni di loro avevano ancora il mio numero e hanno bisogno di un po' di aiuto da parte dell'uomo elettrico. Oh cazzo. Mi sa che sei famoso anche qui. Ovvio. Nel profondo sud. Nel profondo sud. Con questi. Io posso dirlo perché lo sono. Con questi terroni. Ovviamente tra una cosa e l'altra scendiamo sempre ad aiutare la gente. Ops. Vieni qui. No. Vieni qui tu. Sarebbe bello se tutti facessero come te. Sarebbe bello. Peccato che non lo è. Aspetta che aiuto tutti. Che magari un po' di karma positivo riusciamo a prendercelo. Ce l'è ancora uno? Resisti. E tu invece a terra. Altra rapina ovviamente. Ciao. Esatto. Venite qui. Dov'è? Fatto. Mutante. Ragazzi l'abbiamo preso. Sì. Anche voi l'avete prese. A posto. Andato. Ti aiuto io tranquillo. A posto. Ecco qua. E voi. In catene. Così aumentiamo il karma. Non so quanto mi manchi. Ma credo ormai molto poco. Altro frammento dell'esplosione. Grazie. Altro piccione viaggiatore. Appena riesco a capire dove. Lo sento ma non lo percepisco. Eccolo lì. Fermo. Oh no. Poverino. Adesso che è caduto. Si è fatto male. Ho sentito plak plak. Io intanto. Prendo anche i frammenti dell'esplosione che vedo. Ci sei John? Dimmi. Ora che ti sei infiltrato nei primogeniti di Empire City. È giunto il momento che tu conosca il mio contatto qui a New Marais. John White e il dottor Sebastian Wolf. Wolf è questa la risorsa segreta che stai proteggendo. Ma accidenti è responsabile di tutto ciò su cui stiamo indagando. Nessun problema. Wolf sta rischiando grosso per aiutarci. Siamo tutti in pericolo. La NS ha scelto voi due per questo incarico perché possede dirgele Contuit. Ah. Ci sono estremamente appetibili per i primogeniti. Ebbene certo. Sorvegliano i nuovi proseliti con molta attenzione. Non esiteranno ad uccidervi. Sappiatelo. Quindi anche Quo è atta essere un Conduit. E anche John lo era. Strano effetto ha avuto la raggio sfera su di lui effettivamente. Mmm. Altro frammento. Ce ne mancano due. Abbiamo già un'altra sfera. Aspettate che arrivo. Tutto l'aiuto che posso dare alla gente. Ci fa guadagnare karma positivo. Se non ricordo male tra l'altro c'è anche un potenziamento che ci permette di curare istantaneamente tante persone in un'unica zona. Però non vorrei sbagliarmi. Non vorrei sbagliarmi. Ecco qua. Nove frammenti. Ce ne manca solo uno. Ecco qua. Addio. Dove sei? Kaboom. Sai cosa? Credo che questa granata qui in particolare faccia sì un bel po' di danno continuo. Ma a livello di esplosione non fa molto. Ecco fatto. Liberiamoci di tutta sta gentaglia. Dove siete? E addio a tutti. Oh no. Minchia meno male. In Infimus 1 sarei morto per un'esplosioncina del cavolo come questa. Un ultimo frammento. Eccolo qui. Ecco qua. A posto. E ora... Andiamo ad aiutare questo tizio. A posto. Sei libero. Battene. Ciao. Volate via tutti. Me ne manca ancora uno. Dicevo. Volate via tutti. No. Sono ancora vivi. Morti? Certo che siete morti ora. Allora. Qui ci sono un po' di cose. Un frammento. Gente ferita. E la nostra altra missione secondaria. Sì, sì. Smettete di lamentarvi che adesso vi aiuto. Fatto. Ecco a te. Tutto a posto. Non so quanto ci manca ma sarà veramente poco. Sicuro. Sicuro ci manca veramente poco. Vediamo. Cos'è? Che palle questo karma. Ehi, si è sparsa la voce. Mi hanno contattato un tossico e un poliziotto. Ah beh. Wow. Ho una schiera di fan. Questa gente ti prende sul serio. Se li aiuti mandarei un segnale. Eh certo. Il numero è la nostra occasione per ripartire. Ricominciamo da zero. Ok. Ricevuto. Ehi, questi si interessano a te. Soprattutto quando le tue mani sparano full. Carmi è un casino. Lo so. Cosa pensi di fare? Ovviamente aiutare la persona giusta. Ecco cosa farò. Eviterò di aiutare i tossici. Allora. Allora, aspetta. Calmi tutti. Prima di tutto andiamo a sventare un'altra rapina. Tra l'altro in questo gioco i colpi alla testa non uccidono. Cioè non uccidono subito. Ecco te. Sono diventato molto più buono ora. E anche i miei tatuaggi sono cambiati. Cura di gruppo. Eccolo. Lo sapevo che c'era un potenziamento per questo. Non dovrei neanche essere qui. Eh già. C'hai ragione. Comunque. No tossico. Ho appena cambiato maglietta. Devo aiutare la gente giusta. Ovviamente i poliziotti. Perché siamo bravi. Il buon samaritano. Scegli di giocare questa missione eroica per dare la missione malvagia a portare fuori la spazzatura. Wow. Va bene ti aiuto io. In una villa poco distante da qui la milizia sta giustiziando delle persone con la cosa di essere partiti. Se sei buono come dicono fermali e cure te. Aha. Ci penso io. Ovviamente. Allora. Dobbiamo passare per la paludina eh. Deve essere bello vivere in sta zona di schifo. Piena di mosche e zanzare eh. Dobbiamo aiutare la gente ovviamente. Sì sì ti aiuto io. Starai benone. Ecco qua. Cure civili nei pressi della villa. Aspetta aspetta vi aiuto io. Sperando che. No. No scusami. Stai giù. Dove siete? Ma sono dentro? Ah sei. Ma che stronzi. No ho colpito qualcuno. Morto? Dai. Granate in arrivo. Allora aspetta. Quagli agenti sono sotto tiro. Vedi di intervenire. Poi cattura uno della milizia e interrogalo. Vabbè questa si è buttata da sola. Ci penso io qua. Certo che in meno di due minuti. Vai. Salva gente che sta per essere buttata di sotto. E il poliziotto che ti ha chiesto la missione adesso è in pericolo. Non ci si annoia mai a New Marie eh. Dove siete? Certo certo. Il buon samaritano. Peccato per i due civili però. È andata così. Nove missioni secondarie al potenziamento successivo. Accidenti. Lo senti quel maledetto hippie suona pentole. Che musica di merda. Fa un favore a tutti e metti un po' di strizza a ogni artista da strada che incontri. Ma zic. È solo che non voglio essere costretto ad ascoltare la loro musica. Come se qualcuno piacesse davvero. Ma stai buono dai poverino. Deve guadagnarsi da vivere anche a lui eh. Ma pensa te. Il tuo nome è sulla bocca di tutti i call. Non potrai stare nell'anonimato ancora a lungo. La gente chiede il tuo aiuto ovunque tu vada. Ovviamente. Sì signora. No non mi interessa connettermi al PSN. Anche perché. Parentesi. Se lo fate adesso. Crash al gioco. Ovviamente i server sono morti. E se tu provi ad accedere al PSN di questo gioco. Il gioco frizza. Punto. Fine. Morte. Caput. Ah però aspetta sono io cretino. Le missioni bianche sono di storia. Le missioni gialle sono di secondarie. Genio. Un genio. Che parentesi. L'ultima volta che ho giocato era il 2014. Dio mio. E la primissima volta che ci ho giocato il livello è al 2012. Dio mio. Quanti. Quanti anni. Che tra l'altro. Mi sa. Che avendo fatto entrambi i due finali. Abbiamo un bonus. Io adesso non mi ricordo come funziona. Ma il gioco ti dice che quando completi il gioco in entrambi i karma puoi ottenere tutti e due i tipi di poteri senza doverti sbattere su un singolo karma. Quindi per esempio se a noi ci piacesse un attacco del karma cattivo possiamo averlo. Io non me lo ricordo però come e quando possiamo sbloccarlo. Dobbiamo scoprirlo. Dobbiamo scoprirlo.